Buongiorno, oggi vi voglio parlare di questo oggetto misterioso, un cilindro in silicone che apparentemente non serve a nulla, anzi, quando ho scoperto il suo utilizzo l'ho snobbato pure perché ho detto figuriamoci, pelare uno spicchio d'aglio cosa ci vorrà mai per farlo? Ebbene, quando me l'hanno regalato non ci volevo credere e ora non posso più farne a meno, basterà infilare uno spicchio d'aglio al suo interno in questo modo e fare rotolare il cilindro con la mano sul piano di lavoro per qualche secondo, et voilà! Ecco lo spicchio d'aglio perfettamente pulito. Il cilindro si può lavare in lavastoviglie comodamente senza far fatica o con acqua e sapone per i piatti, in più a questo pratico forellino se vorrete tenerlo appeso in cucina pronto all'uso. Lo potete trovare in vendita in tutti i casalinghi oppure su Amazon per pochi centesimi o al costo di un euro. Sembra una stupidaggine ma è veramente utile perché in questo modo il tagliere non puzzerà d'aglio e neanche le vostre mani. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!